Sarei carpioni di erba linda Pisce e caffè Questo è il pisce in carpione Il borrelli in carpione E c'è un altro piatto no? Guardate il nostro sagra carpione Benboni coperti E finisce bene La base comunque c'era eh Con il dinero comunque Non vorrò qui a formalizzarci eh Comuni del Baviglia Parco Alpelevicere E qui appunto con 20 minuti di cammino Si arriva Si arriva In alto Cos'è che ti ho detto prima? Che sono le bruglie Per arrivare alla Capanna Mara Quanto tempo ci impiega? Per andare a Capanna Mara Quanto tempo ci impiega? Una ventina di minuti? 40 minuti Capito? Capito? C'è Emilio C'è Emilio Non ho detto dove andare Per dire dove andare C'era anche la bella chiesetta Che è chiuso nei momenti Che persone Qui si può andare a Bollettone A Capanna Mara E qui si può andare a Bollettone A Capanna Mara Un altro rifugio Un altro rifugio C'è un po' se pure si mangia Polento coi funghi Mi sentiero So che Panna Mara Un ferro Un legno Un canino Un giorno del valentino Un bel valentino Ho detto Qua cos'è il lago di Annone Eh? Quel lago lì Non è? Che lago è? Annone Grazie Grazie Panna Mara Quanto e'ivenuti Capanna a mare, a presto, pranzo, domenica e festivi. Prova di montagna, non si è solo la capanna di mare, ancora 20 minuti, sarà per la prossima volta. Saluto. Scusa, quando uno è un mistico, è un mistico. Andiamo in cima, a capanna a mare. Non è un mistico, non è un mistico. KK giapponese e KH giapponese, abbiamo un magnifio, un blog di Sony, e abbiamo una più profonda di profondità. Con l'immunità emulando il sistema KK giapponese ho messo una lente ampliante per due e aumenta la profondità. Ora vi saluto. Quanti giornali, complimentare il fatto... ... 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 di ripresa con la lente posta davanti alla pietrice x2 doppio ingrandimento davanti al blog per avere una migliore approfondità con questa attraverso lente Grazie a tutti. 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 Il concetto è che immagini correlati, anche se il segmento composte permettono di fiorizzare il messaggio di Biazzi. Questo è ancora di saluto. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti.